La signora Cecilia Gasli è soprano e comunque indiscussa cantante lirica. Io tra l'altro provengo da una realtà lirica perché comunque, non so se lei si ricorda, Vilma Vernocchi. Sì, come no, mi ricordo molto bene. Vilma Vernocchi è stata una... è una mia carissima amica di Forlì. Mia carissima amica di Forlì e quindi voglio... Allora, lei ovviamente porta la musica, la canzone, in realtà le arie delle opere in questa trasmissione, che è Ti lascio una canzone. L'ho vista l'anno scorso anche a volte presa emotivamente da terti ragazzi. Erano di una bravura e poi comunque io al di là di essere una cantante lirica, prima ero una bambina che cantava la musica leggera, come ho detto prima, cantavo una lacrima sul viso, sono molto appassionata di musica leggera, per cui la lirica è venuta dopo. E devo dire che sono qui, questo programma grazie a Antonella, che non so perché mi ha voluta al suo fianco, la ringrazio tanto perché è stata per me una bellissima esperienza e quest'anno spero ancora di più. Ecco, questi ragazzi in effetti, questi bambini, che in realtà a volte si possono chiamare prodigio, ma ringraziando loro, voglio dire, hanno tutti una bella voce e quindi è anche una grande musicalità. Però questi bambini trasmettono ogni volta qualcosa di nuovo. Diciamo che quelli scelti poi per questa trasmissione, ovviamente sono una creme della creme, ma i bambini sono sempre tutti prodigio, specialmente quelli che cantano evidentemente hanno un talento per cantare. Poi ci sono quelli magari fuori classe, ci sono sempre in tutte le cose. Il volo, il volo. Il volo, beh, sappiamo che bella carriera stanno facendo, adesso poi i bambini diventeranno grandi, quindi poi anche loro si scontreranno con la realtà di dover studiare, perché per fare i tenori, tenori è una cosa diversa, insomma c'è anche un grosso studio alle spalle. Quindi insomma, i bambini, come si fa a non dire che sono tutti prodigiosi quelli che partecipano a questa trasmissione? Ecco, io credo comunque che a molti bambini con qualche voce particolare di qualcuno, ovviamente si riesce a trasmettere anche l'opera lirica, cioè un po' di passione in più per l'opera lirica. Io sono abbastanza dentro a questo ambiente, quindi le posso dire che il mondo è pieno veramente di ragazzi di 15, 16, 17 anni che si accingono a studiare seriamente l'opera. Nei conservatori pullulano di questi ragazzi, quindi io sono molto contenta, perché è vero che l'opera è un momento difficile, ma non finirà mai, è un genere intramontabile, quindi la ruota girerà. Allora, le votazioni di quest'anno come saranno? Beh, ma noi non votiamo più come l'anno scorso, noi votiamo la canzone, quindi sarà tutto un modo di giocare con i bambini, poi certamente loderemo, almeno per quello che mi riguarda, la gioia di poter lodare la bravura di un bambino, quella non ce la leva nessuno. Grazie, tante belle cose, auguri. Grazie. Grazie.